Dagli esperti viene definito come un vero e proprio mago dell'arte digitale, colui che ha il computer con un lavoro minuzioso riesce a ricostruire qualsiasi cosa rendendola quasi reale. Ha lavorato a numerosi film prodotti ad Hollywood, Star Wars, Harry Potter, The Born Legacy, Total Recal, Pirati dei Caraibi e tanti altri ancora, Victor Perez è stato ospite del liceo artistico di Termoli dove ha raccontato agli studenti la sua vita e due suoi primi approcci con la professione, attore, regista, sceneggiatore ed infine esperto di effetti speciali in digitale. Due anni fa ha progettato e supervisionato gli effetti visivi del film Il ragazzo invisibile seconda generazione di Gabriele Salvatores, introducendo per la prima volta lo spazio di colore Ace in una produzione cinematografica italiana. Per me l'arte non ha una forma concreta, a me basta raccontare storie, dipende dalla storia magari mi va di più da una modalità o dall'altra, ma credo che è un'evoluzione naturale, per me non è stata mai una scelta, è stata una chiamata diciamo che ho sentito. Secondo Victor Perez il più grande errore nel cinema virtuale è voler strafare con gli effetti senza puntare all'essenziale. E cercare di mettere troppo, aggiungere troppe cose, stiamo in un periodo dove sembra che bisogna aggiungere molti elementi per fare qualcosa vero, quando in verità la realtà anche se complessa nella sua essenza è una questione molto semplice, non bisogna aggiungere ad esempio troppi effetti, troppi elementi di luce, troppi, basta andare all'essenza, a quello che racconta e soprattutto studiare non quello che è la verità o la realtà, ma come l'essere umano percepisce la realtà, per cui ci stanno quadri, noi dobbiamo fare dei quadri in movimento, per cui non possiamo prestare attenzione ad esempio ai singoli pelletti, bisogna raccontare in grande tracce, dopo dipende da quello che stai raccontando, ma adeguarsi allo stile sempre in modo fotoreale è la cosa fondamentale. In venti anni di carriera ha lavorato con tanti registi, ma Perez indica anche colui che in qualche modo lo ha ispirato. Ho lavorato con tanti registi di cui mi piace, magari se posso dire un nome senza offendere al resto sarebbe magari Christopher Nolan per il fatto che personalmente mi piaceva anche molto prima di lavorare con lui, ma per il fatto che lui riesce a mantenere uno spirito autoriale, anche dentro a quello che sarebbe una struttura di blockbuster, di un film grande, ma mantiene comunque una cura sulle storie e una ricerca sull'essere umano che alla fine è quello che fanno gli artisti.